Io e Malin come parlamentari europei, così come tutto il gruppo UE, siamo impegnate totalmente perché nel Parlamento europeo ci sia una piena affermazione dei diritti delle persone lesbiche, delle persone gay e delle persone bisessuali. Pensiamo che a questo sia utile continuare anche attraverso un intergruppo di cui facciamo parte. Sappiamo che in Italia in questi giorni si sta consumando una partita orrenda sulla pelle di donne e uomini. L'Italia ha già milioni di anni voce indietro. Noi vogliamo che l'IDL ci rinassi a formato così com'è senza inaccettabili motivazioni e senza ulteriori immiliazioni per persone che aspettano diritti da troppo tempo. Il 5 marzo sarò in piazza e ci batteremo ogni giorno qui a Bruxelles, a Roma e in tutta Italia perché finalmente ci siano pieni diritti per tutti gli amori degli amici. Mi chiamo Malin Björk e sono membri dell'Europa Parlamento europea per la gruppa di Lecht. E noi stiamo dietro alle persone che marchano il 5 marzo per le rite di lgbti persone in Italia. E' ora per l'Italia di partire di lgbti persone in Italia. E' ora per l'Italia di join il 21 cento e per dare civili rite alle lgbti persone.